Ciao ragazzi, oggi vi parlo di questo aliante a motore davvero interessante, idoneo per i principianti, ma adatto anche a chi vuole divertirsi in modalità manuale. Tra le varie caratteristiche di questo prodotto iniziamo subito con dire che è dotato di un sistema di autopilotaggio con GPS integrato, esiste diverse varianti, la più completa che è quella che oggi andremo a recensire è la RTF, ossia Ready to Fly, pronta al volo, con un sistema in FPV. In questa scatola andremo a trovare tanto il radiocomando, quando una cam con antenna Cloverleaf, motore, batteria, caricabatterie, 3 servocomandi, batteria che tra l'altro in questo modello è agli ioni di litio, quindi l'ion e non le classiche lipo, che gli consentono di avere un peso molto più leggero e una buona autonomia. Come dicevo, una delle caratteristiche particolari e forse anche più interessanti di questo prodotto a fascia bassa di prezzo è la dotazione del GPS, come potete vedere da questa icona. Praticamente con questo sistema l'aereo, una volta che è in volo, è anche stabilizzato grazie al sistema a giroscopio a 6 assi. Con il GPS è in grado di effettuare il Return to Home o su richiesta del pilota, oppure in caso di perdita del segnale di controllo. In questo caso l'aereo ritorna alla base e una volta che si è arrivato dal punto di decollo inizia a girare in circolare come se fosse un avvoltoio. Volevo precisare che questo aereo però non prevede anche l'atterraggio automatico, ma essendo stabilizzato basta spegnere il motore e lui comunque in automatico inizia a planare. Certo, richiederà un po' esperienza, ma comunque è davvero interessante. Prima di andare a fare l'unboxing per proprio, volevo darvi qualche caratteristica. Diciamo che ha un'apertura alare di 1,20 m per una lunghezza di 81 cm circa. Abbiamo detto che è dotato di tre servocomandi e questa versione è dotata di una cam da 400 millipat. Una cosa che volevo segnalare, molto interessante, che rende il prezzo davvero competitivo è il fatto che il sistema di pilotaggio automatico è quello della Zodd HD Co-Pilot, versione light. realizzato praticamente in high quality Epo e davvero resistente agli urti. Interessante è anche la modalità di decollo automatico. Basta lanciare il motore a manetta e lui in automatico si stabilizza e inizia a salire in quota. Poi torno arriverà a 70 e inizia a girare intorno e poi possiamo prendere il comando di volo. Prevede tre possibilità di volo. Modalità gps, appunto con l'ausilio del gps per mantenere la rotta ed è idoneo ed utile per i principianti. Modalità stabilizzata e poi la modalità manuale. La versione è completa di tutto, però la EA Sheen prevede anche altre versioni diciamo meno complete, dalla semplice fusoliere ali e timone, la versione plug and play, la versione RTF e la versione all-in-one che è questo qua. Adesso andiamo a procedere all'apertura dello scatolo. La prima cosa che andiamo a trovare sono i kit di stickers, pelle singole ali, verde, arancione e blu. Ma queste verranno in un secondo momento. Procediamo con l'unboxing. Abbiamo la prima ala. Vedo che il sacchetto è sigillato. Si, è sigillato. Vediamo l'apertura. Ci riusciremo. Eccoci. Non so se si intravede, all'interno dell'ala c'è un rinforzo, esattamente qui. Qua c'è il servo con la squadretta regolabile. E qua andiamo a trovare l'insetto che si va a fissare e a rendere rigida la struttura con l'altra ala e il connettore del servo comando. qua andiamo a trovare l'altra ala. Anche qui, come ho già detto, per l'altra ala c'è il rinforzo e il servo. Procediamo il manuale di istruzioni. Il lingua inglese. Questa versione, che ricordo essere la Ready to fly all-in-one RTF-AIO. Viene venduta anche con il radiocomando da 2.4 GHz a 5 canali e, come dicevo, il sistema di autopilot. autopilotaggio. Vedremo in seguito come funziona. Il manuale in inglese. Qua ci sono alcune caratteristiche salienti del prodotto. Non so se sono visibili dalla camera. qua all'interno dovremmo trovare, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Ecco qui, troviamo il cuore del sistema FPV, ossia la camera da 400 mW. Vedete che il richiamo allo ZOD HD è evidente. Spero di riuscire ad aprirlo. Ecco qui. ecco qui il sistema. Come detto, copri obiettivo, andiamo a coprirlo. uso l'antenna Cloverleaf a petalo e qua c'è il connettore con l'alimentazione da collegare all'ESC. procediamo con l'unboxing. Vediamo cosa c'è qua dentro. Credo che ci sia il caricabatterie. esatto. È un economico, carica batterie, carica bilanciata, 3 celle da 20 Watt. vediamo che tipo del totale c'è. Sarà sicuramente con spina americana ed è con spina americana, ma poco importa perché io utilizzerò un altro caricabatterie più sale di quello fornito in dotazione. che ha la possibilità anche di mettere storage. Qua abbiamo le eliche con l'ogiva. veniamo qui al corpo dell'aereo. Eccolo qui. ecco l'ottima si leva, si rimuove. Abbiamo le batterie. Vi ricordo, come ho già detto, che si tratta di batterie agli ioni di litio, quindi l'ion con un attacco X30 e fissare al corpo dell'aereo un cavo bilanciatore con una vite. 2S 1P 18650 da 3500 mAh. 2S. All'interno già troviamo tutto montato. Motore. Dovrebbe essere un 2600KV. qua potete vedere il sistema GPS, il modulo, i connettori per collegare i servi e le ali. Qua proviamo ad aprire il tutto e qui troviamo, come detto, il cuore del sistema. non so se è visibile. Questa è la centrolina di controllo dell'aereo. stabilizzata su sei assi con giroscopio, per rendere il volo abbastanza stabile, ma anche abbastanza facile, con i vari connettori all'interno già presposti e montati. L'attacco alla corrente. L'attacco per alimentare la cam. il servo. Mi pare che qua non ci sia altro. Poi proseguiamo nell'unboxing. Qua troviamo, anzi, per facilitare la comprensione richiudiamo il tutto. Ok. In dotazione, oltre alla calottina semplice, per un volo senza sistema di FPV, viene fornita la calottina con l'alloggio per la cam. sempre in dotazione. Eccola qui. Qua si va a fissare la cam. Interessante anche la pesa d'aria per raffreddare la componentistica interna. E anche la cam che sicuramente di suo scalderà. proseguiamo con l'apertura. Qua abbiamo l'alettone posteriore. Anche qui con rinforzo interno. Pure qui. Sembra abbastanza robusto e resistente. Seguiamo nell'apertura. Ecco la coda. Rinforzo il legno per fissare qui. Questa ovviamente è una cosa così temporanea. Ecco qui. Come vi dicevo poi con una vite andiamo a fissare il tutto. Inizio a prendere forma. Ma adesso smontiamo. Poi faremo altre prove in seguito. Vediamo cos'altro c'è nello scatolo. Ecco la staffa centrale che serve per fissare le ali al corpo dell'aereo. con le viti per fissare timone e alettone. E velcro. E queste plastiche ne sono da fissare sulla parte del viore dell'aereo. Per aiutare di danneggiare, si spera, di non danneggiare la pancia dell'aereo dando l'atterraggio. Qua ci sono dei cavetti. Ed infine andiamo a vedere il radiocomando. Ed ecco qui il radiocomando dell'aereo. Come già detto inizialmente, è un radiocomando che funziona a 2.4 GHz a 5 canali. Abbiamo lo stick di sinistra con il movimento libero. Quindi non ritorna al punto, diciamo così, centrale. Cosa invece accade con lo stick di destra? Qualsiasi sia il movimento, lui correttamente torna al punto centrale. Poi abbiamo i trim. E abbiamo qui dietro la levetta che va a selezionare le modalità di volo dell'aereo. Modalità RTH GPS. Al centro modalità stabilizzata. Ed infine la modalità manuale. Poi farò un video dedicato dove spiego esattamente queste modalità, come funzionano e a cosa servono. Qui troviamo il connettore di ricarica micro USB. USB. Il radiocomando è alimentato da una batteria da 900 mAh 1S e può essere caricato serenamente con una carica batteria da smartphone. E qui dentro lo scatto troviamo esattamente un cavetto micro USB USB per la ricarica. Infine troviamo pure la molletta di richiamo con una levetta che consente di modificare il meccanismo meccanico dello stick di sinistra per far sì che questo possa tornare, invece di essere libero, possa tornare in posizione centrale. Col tasto centrale accendiamo e spegniamo il radiocomando e abbiamo delle LED che indicano lo stato di carica della batteria. In questo caso è messo in modalità storage. Grazie. Grazie a tutti.